YOLANDA SWITZ Bene, come state passando questa domenica? Siete andati a mare? State andando a mare o state a mare? Fatemelo sapere sotto in un commento Allora, oggi andiamo a modificare nuovamente degli slime Con la ruota misteriosa Ma non sono degli slime che ho fatto io Ma sono degli slime vecchi Ragazzi, dovete sapere che nella mia stanza Ho tanti di quegli slime che se ne cade E ho fatto dei ritrovamenti storici Degli slime della Schifidol Ossia questi qua Ok? Ehi YOLANDA, che casino Mamma mia, oggi sono questi qua Tutti questi slime della Schifidol Sono tutti Schifidol questi slime E oggi li voglio andare a modificare almeno due Insieme a voi Se questo video raggiunge 8000 like Andrò a modificare altri slime super 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 vecchi Che ho nella scatola a terra questa volta Però sono slime miei Becchissimi Scrivetemi sotto in un commento Come posso modificare questi slime E andrò a scegliere Sempre random con il sito random Andrò a scegliere i commenti Tra quelli che mi scrivete Quindi, per esempio, scrivetemi YOLANDA voglio che tu modifichi lo slime con Due punti E mi scrivete come lo devo modificare Il colore, il tipo di slime, eccetera Ok? Mi raccomando Scrivetemelo, io ci conto E così lo vado a fare con i vostri commenti La prossima volta Invece di usare la ruota Allora, lo slime è questo Vediamo l'aspetto Oh! Raga! Mi aspettavo peggio! Allora, lo sapete? Prima di modificarlo Lo sapete cosa faccio? Vado a togliere queste stelline dall'interno Ok, lo slime è completamente vuoto All'interno ci sono solo dei glitter Lo vado a mettere Queste stelline, ovviamente poi me le conservo Lo vado a mettere dentro la ciotola Adesso vado a prendere la ruota E vado a vedere che fine dovrà fare il mio slime Ok, ossia Come lo devo modificare per scioglierlo? Micronde, glicerina o limone? Ok ragazzi, allora Io adesso lo vado a mettere in micronde Per farlo sciogliere un pochettino Eccoci qua Lo slime è a dir poco sciolto Quindi è diventato super, 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 super morbidissimo A dir poco sciolto? No, è sciolto No, non cadere Oddio Allora, andiamo a vedere cosa dobbiamo mettere dentro Colla vinilica ragazzi La vado a mettere Dentro lo slime Vediamo Cosa dobbiamo mettere più? Balsamo Poi Sapone mani Ok ragazzi Allora, noi dobbiamo mettere oltre la colla vinilica Il sapone per le mani E il balsamo Allora, andiamo a mescolare un pochettino la colla Mescolando questa colla Vedo che lo slime già si è, diciamo, un pochettino Ragrumato e riaddensato Ovviamente anche il metocolore è diventato più chiaro Vado a prendere il sapone mani E vado a prendere anche il balsamo Un goccino di balsamo E metto anche questo sapone per le mani Che è verde come lo slime Bene, adesso è arrivato il momento di mescolare Ragazzi, lo slime è stra 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 morbido A parte il fatto che l'abbiamo messo comunque nel microonde Quindi penso che sia anche normale Visto che è ancora super 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 bollente Bene Però adesso profumo un botto Che colore lo devo fare? Perché questa sarà un'impresa Andiamo a premere e vediamo di che colore lo devo fare Ok ragazzi, lo devo fare viola Bene, vado a prendere il viola Con verde e viola Cosa uscirà? Vado a mettere quattro gocce in modo da rendere il tutto bello denso Molto molto bello E anche ancora molto morbido Questo slime Bene, dopo averlo colorato E cambiato ovviamente di colore Andiamo a vedere cosa dobbiamo invece mettere all'interno E anche qui dobbiamo scegliere Non so se due o tre cose Vediamo un pochettino Nooo 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 Ma io lo sapevo Lo devo andare a fare snow Vediamo cosa dobbiamo mettere ancora dentro Mamma mia ragazzi Tra tutte le cose la neve proprio non la volevo Mi dovete credere Che noia Quindi neve con fruttine Ok Premiamo dai tre cose Vediamo un pochettino Ti prego Sì Dai Vabbè ci sta Ok Neve fruttine e palline colorate Mmm Dai Più o meno Probabilmente Ce la possiamo cavare Vado a prendere la neve Le fruttine e palline Oh mia ragazzi Lo slime sta venendo una meraviglia Meraviglia Però Vogliamo fare l'impresa di renderlo drizzly Ma chi lo sa se ci riusciamo Io vedo che sta diventando un'altra volta Molto 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 Diciamo gelatinoso Però la neve l'abbiamo aggiunta Quindi vado a prendere le mie fruttine Che ho qui E poi ho anche le palline Allora Prendo le fruttine Le vado a mettere un po' dentro Come anche le palline Perché poi Lo metto di nuovo nella ciotola E Nella scatola E vado a mettere altre cose Oh ma che carino Dobbiamo vedere poi Se dobbiamo mettere anche lo charm sopra Oppure no Ok Vado a metterlo nel suo contenitore Ok Perfetto Ci piace In questo modo Ma che carino Adesso dobbiamo vedere Se dobbiamo mettere Lo charm Oppure no Yes Ok Devo andare a trovare uno charm Da mettere qui sopra Ragazzi secondo me Questo ve lo ricordate Questo charm Dove l'abbiamo trovato Questo charm In quale video Fatemelo sapere Secondo me questo Ci sta da dio Cioè ci sta una meraviglia Guardate che carino Mi piace un sacco Come è venuto Modificato Questo slime Della schifidol Adesso Io vorrei Sinceramente Andare a modificare Ve lo ricordate Questo I lollipop Ve li ricordate Questi qua Ragazzi Erano di butter Esatto Guardate qua È un po' Scioltino Allora ragazzi A quel che è noto Lo slime È molto 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 morbido Quasi sciolto Quindi direi di non andare Ad utilizzare Né glicerina Né limone Né microonde Perché in realtà Sarebbe inutile Ok Dobbiamo andare a mettere La crema Poi vediamo Cosa andare a mettere più Perché se si scioglie Ovviamente Dobbiamo andare a mettere Poi anche il Il coso Come si chiama Colla vinilica Anche quindi Crema Colla vinilica Dobbiamo andare a mettere L'addensante Sicuramente si scioglierà Quindi crema Colla vinilica E vediamo Colla glitter Ok È riuscita la colla glitter Per sbaglio Ho premuto Ok Dobbiamo mettere Colla glitter Colla vinilica E crema Che meraviglia E metto la crema Marò Quanto non messa Io la Perché faccio sempre Questi errori Allora Adesso andiamo a mescolare Visto che si è sciolto E si è tutto amalgamato Andiamo a vedere Se dobbiamo cambiare colore E di che colore Lo dobbiamo cambiare Su slime Che sarà difficilissimo Visto che è arancione Ragazzi Giallo E io come faccio Va bene Non ci riuscirò mai Ci metto l'acrilico Vediamo un pochettino Cosa succede Che se comunque resta Arancione Però Ho diventato comunque Di un arancione chiaro Cioè Dovrei mettere Tutta la bottiglia Di acrilico Probabilmente Più di questo Non so che fare Adesso Vado a prendere Sempre la ruota E vediamo cosa Cosa decide Vabbè raga Comunque La clay Penso di andarla A mettere gialla Se ce l'ho Quindi Quindi si Vediamo clay Poi vediamo Se dobbiamo andare A mettere altro Glitter Fruttine Raga sono pessima Mi sono appena accorta Che non ho la clay gialla Comunque vado a prendere Questa qui Diciamo arancione chiara Va Facciamo così Però io questo qui Lo devo prima Andare a A riaddenzare Si è triplicato Questo slime O mi sbaglio Questi glitter qua Sicuramente Perché Sono uno Tra i miei preferiti E vado a mettere Poi Anche questi qui Gialli Di una consistenza Che io Adoro E stramo Guardate L'unica cosa Che ci manca E sapere Se dobbiamo mettere Un altro charm Prendiamo la ruota E vediamo Cosa ci dice Si no Si no Si no Si no Penso di si Si ragazzi Dobbiamo andare a mettere Lo charm Già so quale mettere A parte perché Già ce l'avevo sotto mano Però Si ci metterò Il limone Questo limone Sempre dove l'avete riscontrato Comunque Lo shampoo Stavo dicendo Lo slime è questo Quest'altro E così Andiamo a modificare Ultimo slime Allora Questo slime qui È il gamma pasta Galactic Non so se ve lo ricordate Anche questo qui È abbastanza vecchiotto Insomma Ed ha una consistenza Abbastanza Durettina Adesso Prendiamo la nostra La nostra ruota E andiamo a vedere Come dobbiamo modificare Questo ultimo slime Microonde Ok Bene Andiamo a mettere Questo slime in microonde Lo vado a mettere Sempre qua dentro Magari Yolanda Pulisce il contenitore Ok ragazzi Adesso vediamo Cosa dobbiamo andare ad aggiungere All'interno dello slime Sapone schiumoso Colla glitter E balsamo Ok allora Il balsamo e la colla glitter Già ce l'ho qui Ma mi sono uscite Quasi sempre le stesse cose Uno Due E tre Perfetto Andiamo a dare Una mescolata Vediamo I prossimi ingredienti Vediamo se devo andare A cambiare colore A questo slime E come devo andare A cambiare colore Allo slime stesso Viola Ok ragazzi Nuovo viola Erano già le palline Quindi vediamo Se dobbiamo andare ad aggiungere Qualche altra cosa E cosa dobbiamo andare ad aggiungere All'interno di questo slime Wow Le fishball Oddio Vediamo cos'altro più La clay Wow Quindi fishball Clay Mamma mia la clay Ma dai Però E Palline colorate Incorpora Questo si Però Annaggia Lo slime Mi sa che ritorna Di nuovo Gelatinoso Ragazzi decido io Lo charm Non lo voglio andare a mettere Perché Purtroppo L'esperimento Non è riuscito Anzi Non mi piace Va bene ragazzi Allora spero che questo video Vi sia piaciuto Questo video dove ho modificato Gli slime della Skifidol Vecchi di un anno Ho cercato di Migliorarli Ovviamente Spero che vi sia stato Anche d'aiuto In questo caso E spero che il video Vi sia piaciuto Io vi mando un enorme bacione Un abbraccio fortissimo E noi come sempre ci vediamo Domani alle ore 14.30 Con un nuovissimo video Bye